Prima di iniziare questo video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale perché siamo quasi a 100.000 iscritti e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa vi piacerebbe vedere per lo speciale 100.000 Signori, signore, sono Luca Campolunghi e indovinate dove sono? In Villa Elie! E oltre agli Elie ho portato anche il mio compagno di avventure dove ho anche il canale su Elie! Prego Andrea Fratino il belloccio Io vedo che siete in quattro senza maglietta e Tatino lo vedo con la maglietta Quindi Tatino in questo video farà la giuria con me Tatino oggi è giudice perché il video sarà gara di tuffi e saranno quattro coppie Voi siete in quattro e quindi vi manca la vostra coppia La nostra metà Quindi partiamo con Fius Vai vuoi presentarmi la tua dolce metà per questo video? Allora la mia dolce metà che ovviamente è solamente per questo video Luca E Alice Muzza Ciao Alice Piacere Andrea Dolce metà, dolcissima metà Cosa non lo sapevo? Hai visto come è arrivata? Ha detto Tieni Alice, benvenuta Cioè prima coppia Vabbè Luca ma Doveva un po' vedere Napoli Prima coppia quindi Andrea e Alice Seconda coppia Omar e Sofia Attenzione Omar e Sofia Caro Enrico Chi è la tua metà? Io ho scelto ovviamente una milanista Quindi Chiara Ecco Chiara e Enrico Terza coppia La fede non si infama Ora sono curioso Perché il mio socio di solito Riserva sempre la ciliegina sulla torta Prego scelga Così Camilla De Pandis Camilla De Pandis Benvenuta in Villa Elizza Tati sei pronto a fare la giuria? Certo Saranno Severissimo Saranno quattro giri di tuffi Sincronizzati Io e Tatino vi diremo come vi dovrete tuffare Chi alla fine dei quattro tuffi Ha totalizzato più punti Sarà la miglior coppia di tuffatori In Villa Elizza Vamos Siete pronti? Si Vai 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 Signori e signore Il primo tuffo che vogliamo vedere È un tuffo basilare Che si impara già da piccolini Il tuffo a bomba Eh Vabbè Prego prima coppia Andrea Fusco e Alice Muzza Ma Luca se qui c'è tanta intesa Cosa succede? Attenzione Mi preoccupo Mi preoccupo Spero che arrivano quarti Uno Due Tre Attenzione Allora purtroppo o per fortuna non c'è intesa Tre Due Uno Ma come? Cinque No Fai nove Ricordatevelo Alice è atterrata troppo prima rispetto ad Andrea Non c'è sintonia Non c'è stata sintonia Noi quello vogliamo Seconda coppia Omar Amum E Sofia Faremo Un grandissimo Scuso Signori Il vostro voto Eccolo qua Sei Sei E sette Enrico Chiara È il vostro momento E loro sono pure i milanisti Voglio vedere passione Voglio vedere sincronia Tre Due Uno Intermezzo Allora Enrico è andato un metro avanti rispetto a lei Però C'è stata una dichiarazione Molto bella Voto Eh Tre Due Uno Sette E otto e mezzo E comunque Non è male Vorrei far notare Io e la mia partner Che siamo uguali Io già scrivo il voto Il sume già batte Pure l'outfit è importante Volevo dirvi solo questo Io già scrivo il voto Guarda me lo sento Vi dico solo che Tattino ha grandi aspettative Su questo tuffo Sarà così caro Tatti Vai Perché vedo fine Con cinque eh Tre Due Uno Vai va bene Ma questo Sette Sette Quattro Per ora questi sono i punteggi Il secondo tuffo Sarà un tuffo che Soprattutto a Tatti piace molto È un giocatore Che è diventato iconico Con la sua esultanza Ovvero Dovete fare L'esultanza Del sume Dovete fare L'esultanza Di CR Sette Se si fossero tuffati Veniva la schifezza Dell'anno Vai Uno Due Sì Otto e otto Voto Sedici Che più nove Fa venticinque Per Alice Andrea Bravo Alice Ci siete? Sì Diamo Prego Sì Il nostro voto è Tre Due Uno Vabbè dai Sei Sei 12 Pari ad Andrea Alice Attenzione Pareggio Quindi calma Calma signori Calma Enrico Chiara Tocca a voi Tre Due Uno Su Su Mi è stato bello L'idea di simulare i doll Prima dei sium Così dai Se non tome ci sta Comunque è stato creativo Esatto Creatività E come il sium Il nostro voto Sette Sette Voto Quattordici Quanto andate? Vinice e mezzo Più quattordici Venti nove e mezzo Venti nove e mezzo E' chiaro E' stato meno in classifica Ok ci siamo Vengo Giù In linea ragazzi C'è qui c'è pure la fisica Voto è stato innovativo Creativo Ci è piaciuto Però Tre due uno Come si Sette e sette Voto E però non vi sprecate Suntri sette e sette E c'ha ragione Anche prima Sì Sette a ventotto Terzo tuffo Vogliamo La panciata Voto d'Angelo Signori Tre due Uno Eh beh No 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 Non si può Dai Siete a candela Non è vero Cinque per la simpatia Bravo Tati Prego Prego Sofia No 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 Lei è perfetta Oh me l'ha piegato Un attimo Il ginecchio Signori Tre due Uno Sì Una grande Nove Diciotto Vamo Andate a Quarantatré Quarantatré Eh gran punto Signora Tre due Uno Quattordici ancora Ragazzi Andrea Camilla A voi Due Uno Mi sono spaccato la testa Mi sono fatta male 8 8 8 E mezzo 16 E mezzo Quindi Arriviamo all'ultimo Tuffo E la classifica è Camilla Andrea 44 E mezzo Enrico E Chiara 43 E mezzo Omare Sofia 43 E Fius Alice A 30 Possono ancora farcela Vediamo perché l'ultimo turno Questo sarà la chicca finale Perché vogliamo un tutto Sincronizzato Inventato Da voi La creatività Sarà Libera Per me Di Nancy La mia donna Giù Il nostro Voto È Almeno Arrivata A 50 E accorciate Un po La classifica 3, 2, 1, 6 e 5, 11 punti e quindi è nata 54 e poi si noti come pochi simbolico 3, 2, 1, 7, 7, 14 ancora andiamo a 43,5 più 14 57,5 e attenzione perché con un 13,5 Camilla e Andrea potrebbero essere vincitori aspetta fermi ho una foto solo abbiamo preparato un siparietto cari giudici arte povera e movimento vabbè prego questa è la foto e io non posso che apprezzare no io apprezzo il gesto tecnico la foto ok ha fatto la foto io do un voto bello tonto 8 tondo tondo come la foto quindi 16, 60 e mezzo vincono Camilla Depandis e Andrea Pratino bravi bravi ecc che Grazie per la visione!